l'ultimo degli ospiti in ordine di tempo il più vicino alle elezioni gli ospiti politici protagonisti della campagna elettorale che abbiamo voluto nel nostro studio è questa sera emma bonino che salutiamo che arrabbiata con noi perché non aveva mai visto questo studio esatto ma negli anni passati e qui siamo a 0 0 0 eccetera ti mando i dati della g com dai andiamo avanti è colpa vostra che avevate cattive frequentazioni scherzo non cominciamo andiamo avanti non perdiamo tempo prezioso allora anche con quello che è successo in questi giorni e queste ultime ore punti una forza politica che si chiama più europa trova dei motivi evidentemente di distinzione rispetto a molti altri se io credo che anche quello che hai fatto vedere eccetera eccetera e mi viene sempre in mente church che diceva che la russia è un indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma e mi viene sempre in mente perché così continua a essere così e continua dopo il comunismo però resta però resta un signore che al capo di una macchina di propaganda straordinaria quello che avete mostrato voi cioè lui continua a dire che l'ucraina che ha attaccato la russia e che quindi la russia deve difendere tutte balle non è così lo sappiamo benissimo ma siccome in russia tanta libertà non c'è e quando c'è se la prendono fanno 300 arresti e tu capisci bene che la situazione difficile io francamente non credo molto ma forse mi sbaglio alla minaccia nucleare perché quella è doppia di tutta evidenza penso che putin stia in difficoltà senti perché ci diamo del tutto come non è venuto il tutto perché emma bonino bisogna votare per voi all'interno di una coalizione in cui ci sono tante forze diverse dal pd a le coalizioni sono fatte così e sono un obbligo quasi di questa terribile legge elettorale che combinata col taglio dei parlamentari un casino infinito detto tutto questo il nostro ruolo credo è quello che è di spingere sempre di più a un'integrazione europea e spingere i capi di stato e di governo finalmente a superare il veto e ad avere una politica estera e poi di difesa comune questo è il nocciolo della situazione di queste elezioni o stai con putin orvan e compagnia bella o stai con l'europa ancorché ammaccata e con le democrazie occidentali ma la nave ammaccata non si capisce perché affondarla noi dobbiamo ripararla anche se in mezzo alla tempesta e renderla adeguata alle sfide dei nostri giorni che non sono le sfide diciamo di 30 anni fa emma bonino ha ritrovato enrico letta a fianco del quale quando lui era presidente del consiglio era ministra degli esteri e è una partita che fate insieme ritrovando magari legami che erano di allora non ci abbiamo neanche provato se è venuto come dire dopo il patto politico è venuto automatico ma ognuno come imposta la sua campagna elettorale come come può o come ritiene meglio diciamo però è indubbio che c'è sintonia importanti per esempio sull'europa su questo non non si discute però l'europa non è solo un titolo c'è una serie di addentellati che la politica europea ciao sentivo dire in questi giorni a il diritto nazionale deve diventare superiore al diritto europeo noi siamo fuori di testa perché questo vuol dire veramente spaccare anche il mercato comune non solo non andare avanti ma tornare isolarsi ma è tornare all'autorchia nazionale perché però in campagna elettorale se ne dicono di tutte di più per fortuna poi quando si va se hanno le responsabilità di governo queste promesse non vengono mai mai applicate lei ricorderà tu ricorderai facciamo finta lei ricorderà salvini se vado io al viminale caccerò tutti i clandestini ha visto niente no perché non si poteva non si può perché i accordi internazionali non dico adesso torna con lo stesso e basta su qui raccontiamo un sacco di bufale giusto per prendere tre voti c'è un aspetto che è stato tante volte detto in passato votiamo emma bonino perché una donna non è che una cosa che piaccia molto all'interessata no lo sappiamo ora c'è un'altra donna come si sa è candidato se lei dovesse dirlo e non è certo come dire la sua cosa preferita parlare di questo votiamo una donna progressista come emma bonino e non una donna conservatrice come giorgia meloni guarda io ho rispetto per tutti gli avversari di compreso la signora meloni solo che non condivido neanche una parola una proposta che lei fa io sto esattamente dall'altra parte sull'europa sui diritti civili e sull'economia su tutto quello che vuole dopo di che ci si combatte da avversari io sono una che non sa usare insulti che li detesta che non ama i gossi il retroscena insomma abbiamo già tante materiali seri davanti senza guardarli senza guardare indietro le battaglie sui diritti civili che hanno contraddistinto la vita politica di emma bonino per decine di anni adesso molte cose sono messe in discussione proprio per l'avanzata del centro destra ci sono battaglie su cui secondo lei bisogna essere assolutamente intransigenti tutte immagino ma quale soprattutto ma io credo che intanto difendere quello che abbiamo conquistato tanti anni fa e che viene disatteso poi abbiamo da dallo ius scuole al diritto di morire in modo in modo dignitoso di scegliere quando come se diventare madri di regolarizzare gli immigrati perché questo da sicurezza e da serve anche all'economia ormai ce lo dicono tutti con commercio industria che qui serve mano d'opera ce l'abbiamo sono 500 mila irregolari che invece potrebbero fare quei lavori che gli italiani giustamente non vogliono fare più e infine emma bonino uno guarda emma bonino se non è più se non è diciottenne e pensa alle grandi battaglie radicali questa diaspora radicale per cui troviamo lei e della vedova in più europa abbiamo visto che è stata rifiutata la lista di cappato è sempre così poi si dice se ci fosse ancora il partito radicale magari quando c'era non lo votava esattamente marco è stato molto amato da morto ed elogiato da morto pannella da viva da vivo un po meno no a me questa diaspora dispiace molto ma non è che si può incollare con il bostic in conclusione una battaglia che si impegna a fare emma bonino nella prossima legisla una tra le tante una una sei milioni di consumatori di cannabis 4 piantine 7 miliardi di introiti per le casse dello stato vogliamo per favore essere ragionevoli se qui non è la libertà delle droghe qui è appunto questo che vi sto dicendo che va di pari passo alla legalizzazione degli immigrati perché se rimangono irregolari fanno i manovali della mafia molto chiaro grazie grazie davvero grazie ma bonino speriamo ci venga a trovare più presto allora no guarda che dipende da lei se non mi incazzo e non va bene sembriamo un po sandra e e allora grazie a emma a emma bonino e alla sua simpatia anche poi tutti sono uguali i candidati per carità andiamo a vedere però l'altra